Cama di Comercio ha inventato, proposto questo progetto Made Film Festival perché nella sua diciamo finalità istituzionali ha anche quello di valorizzare la cultura e il patrimonio dell'impresa e abbiamo pensato che l'utilizzo del video, uno strumento molto moderno, non tanto utilizzato dalle imprese per raccontarsi, sia invece uno strumento che oggi raggiunge, può raggiungere un vasto pubblico. Quindi pensiamo sia a questo festival come un'opportunità per valorizzare i lavori fatti e quanto le aziende hanno prodotto in questi anni, ma anche come una palestra, una forma di istruzione e di formazione per insegnare alle aziende come raccontarsi, come raccontare gli straordinari valori che hanno all'interno delle imprese.